Amici di SS Fanta, ben trovati sul nostro canale ufficiale YouTube. Oggi vi parliamo degli infortunati di lungo corso, perché è il momento di fare il punto sulla situazione. È stata molto travagliata la stagione di Paul Pogba, praticamente non si è mai visto con la Juventus e nemmeno al Fanta. Addirittura zero bonus ha finito e solo uno ne ha avuto Ibrahimovic che ha finito di giocare e ha segnato solo su rigore all'Udinese. Io sono caduto nel tranello Ibra e l'ho preso a gennaio e purtroppo non è andata a buon fini, non sempre può andare bene. E avevo anche un altro Fanta a Chiesa, un altro che alla fine si è ripreso nel finale di stagione, ma complessivamente ha avuto un rendimento negativo con solo due gole e cinque assist in ventuno presenze. Decisamente al di sotto delle aspettative si è ripreso nel finale anche Lukaku invece, che ha fatto dieci gole e sei assist in venticinque partite. Diciamo che se siete riusciti a reggere senza Lukaku, alla fine con Romelu siete andati bene. Io per esempio non l'ho saputo aspettare, l'ho dato via prima e me ne sono pentito, no perché comunque non sarei riuscito ad andare a podio. Mentre per Duvanzapata è andata veramente male. Due gol, due assist, ventiquattro partite, una stagione veramente disastrosa e riflessioni importanti. Va fatta una distinzione secondo me perché Chiesa, Pogba, Ibra stesso erano infortuni alle ginocchia, quindi sull'infortunio alle ginocchia in sede di Asta bisogna fare massima massima attenzione, perché soprattutto se si fanno male a ridosso dell'Asta o d'estate così, i tempi veramente rischiano di andare molto lunghi e la stagione può essere compromessa. Anche per Zagnolo in passato era andata così. Mentre diverso è il discorso per infortuni muscolari. Vedi per esempio Ozymane, vedi per esempio Miranciuk, giocatori che si erano infortunati all'inizio stagione, però a cose di poco conto qualche settimana e poi si sono ripresi. Vabbè, Ozymane un capitolo a parte perché è stato il capocannoniere della Serie A e dunque alla fine si è ripreso alla grandissima. Ma anche Miranciuk, se l'avete preso da infortunato a pochi crediti, si è rivelato un buon affare perché ha chiuso con 4 gole e 5 assist in 28 partite. Attenzione quindi alle ginocchia, ma attenzione anche agli infortuni per esempio al piede, perché io ricordo Isharawi tanti anni fa, ma anche lo stesso a Mettro Aure del Sassuolo ha iniziato da infortunato con questa frattura al piede e poi non è veramente mai tornato. Tre assist in 11 partite, la cessione a gennaio e anche Albaromov non ha mai riuscito a segnare, ha chiuso a 0 gol in stagione. Dunque la mancata preparazione si è fatta sentire per lui, si fa sentire per esempio per Lukaku che ha una corporatura molto importante, per Dovan Zapata stesso e quindi tirando le somme valutate con molta attenzione in sede di asta e scambi perché i lungodegenti possono essere una trappola per il Fanta.